La 35esima edizione resterà nella storia del pellegrinaggio macerata Loreto come quella della chiamata del Santo Padre Papa Francesco in diretta telefonica dallo stadio Elvia Recina per salutare i 100.000 fedeli presenti. Pronto? Pronto, pronto, sì. Come sta lei? Bene? Santo Padre! E' l'applauso, l'applauso dei fedeli! Dei giovani, dei Vespovi, delle autorità. Sono migliaia di giovani, Santo Padre. Ma grazie tante. Adesso facciamo silenzio e ascoltiamo la sua voce. Carissimi giovani amici, buonasera. So che siete tanti allo stadio di macerata, decine di migliaia, arrivati da ogni parte dell'Italia e anche dall'estero per questo 35esimo pellegrinaggio a piedi a Loreto, proposto a tutti voi da comunione e liberazione. Vi saluto uno ad uno e in particolare saluto sua eminenza, il Cardenale Marco Elete, che tra poco celebrerà la Santa Messa. Anche profitto dell'occasione per dargli gli auguri per il suo compleanno, perché oggi è il suo compleanno. Saluto anche ai Vespovi della Marco. So che camminerete per 28 chilometri tutta la notte, recitando il Santo Rosario, cantando insieme, guidati. E' bello questo, perché è il paradigma della vita. Tutta la vita è un pellegrinaggio. L'importante è l'incontro con Gesù in questa strada della vita. L'incontro con Lui, e questo ti dà la fede, perché è proprio Lui che te la dà. Tante volte, anche per noi, la fede è un presupposto ovvio del vivere. Diciamo, io credo in Dio, e va bene, ma come vivi tu questo nella strada della vita? E' necessario che la fede diventi un'esperienza presente. Quando ci incontriamo, quando incontriamo il Signore, Egli ci sorprende. Il Signore si può chiamare il Signore delle sorprese. Siate aperti alle sorprese di Dio. Anche per voi, l'avvenimento di questa notte, che ogni anno cresce, è una sorpresa. E' il segno che nulla è impossibile a Dio. Come spiegare, altrimenti, che da 300, che eravate nel 78, siete diventati lo scorso anno 90.000? Anche voi potete appoggiarvi tutti su Gesù. Su questa presenza così affascinante e attraente. Quando vi sentirete stanchi e vi verrà la tentazione di andare per conto vostro, pensate a questo. Ripetete il vostro sì. Pregate perché ciascuno di voi possa riconoscere, nella sua carne piegata, nel corpo e nello spirito, la propria umanità bisognosa dell'umanità di Cristo. L'unica che può saziare davvero il desiderio dell'uomo. Il tema che avete scelto questa notte si riferisce a questo. Andate avanti con speranza, carissimi giovani. Andate avanti con speranza e, per favore, non lasciatevi rubare la speranza. E' il Signore che ti lo dà. Buona Messa, buon pellegrinaggio e che il Signore vi benedica e pregate per me. Grazie Santo Padre, grazie. Fate gli auguri al Cardenale Wellè. Facciamo gli auguri al nostro Cardinale che ci guida. Ma come vuol bene ai suoi Cardinali, Santo Padre. Ma no, poverino, lo faccio lavorare oggi. Santo Padre, chissà che un anno non possa venire anche lei a celebrare la Santa Messa. Ma nessuna cosa è impossibile per Dio, eh. Bello. Andiamo avanti. E' una commozione straordinaria perché un Papa che telefona a un povero Vescovo e a tanti pellegrini è un segno veramente di tenerezza. Lui parla sempre della tenerezza nella Chiesa, ma lui la testimonia e speriamo che tutti abbiamo più tenerezza tra di noi. Questa edizione sarà ricordata anche per la telefonata di Papa Francesco? Certamente, è un evento straordinario. Poi cade a vent'anni dalla partecipazione di Giovanni Paolo II. Quindi dopo vent'anni abbiamo avuto ancora in diretta la voce di un pontefice che ha parlato con un grande calore, un grande affetto e ci ha rivolto quel messaggio di speranza per i giovani e non solo, di cui abbiamo particolarmente bisogno. Il Papa già ci aveva dato segnali di grandissima attenzione mercoledì scorso, mentre eravamo a San Pietro per l'accensione della Fiaccola e oggi ha mantenuto fede a quella promessa che ha detto mi farò sentire, farò sentire la mia voce. Di fatti è venuto, è stata una cosa bellissima questa telefonata e poi ha detto anche che forse in futuro potrà partecipare anche direttamente di persona e quindi ci auguriamo che possa realizzarsi questo sogno. La messa prima della partenza in diretta su ETV è stata celebrata dal cardinale canadese Marco Uye, presidente della congregazione per i Vescovi che ha definito questo pellegrinaggio un'esperienza straordinaria nel contesto dell'anno della fede. Questo pellegrinaggio nel contesto dell'anno della fede è una grande implorazione per tutta la Chiesa. Signore aumenta la nostra fede e concretamente questa richiesta o questa preghiera si concretizza nelle intenzioni particolari che abbiamo e che vogliamo chiedere al Signore e quindi così si manifesta la nostra speranza. Vediamo anche tanti giovani che ogni anno partecipano, qual è il messaggio rivolto nello specifico a loro? Mi sembra che questo pellegrinaggio è una bella tappa verso Rio Janeiro. È veramente una tappa molto significativa perché i giovani che cammineranno stasera saranno in solidarietà con tutti quelli che saranno radunati intorno al Papa a Rio Janeiro nell'unità della fede e dell'entusiasmo por Gesù Cristo. Ultimissima cosa, Papa Francesco cosa le ha detto di questo appuntamento e vista questo sorpreso della sua telefonata? Mi ha detto che queste cose mi piacciono e per questo ho accettato subito di dire qualche parola ai pellegrini. Al Cardinale Uiene il giorno del suo compleanno è arrivato l'augurio speciale dalla parte di Papa Francesco e dai seminaristi provenienti da tutto il mondo che studiano a Macerata nel seminario Redemptoris Mater. Happy Birthday to you! 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 Da quanti paesi? Cina è zioni? Da tutto il mondo per tutto il mondo. Aspetta la Cina. Un'edizione speciale anche per Monsignor Giulio D'Ori, l'ultima da pastore della diocesi di Macerata Tolentino Reganati Cingoli Treia. Certamente la vedo come l'ultima edizione che vivo con una responsabilità diretta in diocesi, ciò non vuol dire che non potrò partecipare anche in futuro. Certamente prima di diventare vescovo di Macerata non avevo mai partecipato, adesso in questi anni è diventato un punto di riferimento fondamentale nella vita della Chiesa e quindi anche nel mio ministero. Chissà, spero di avere altre occasioni di ritornare, adesso non saprei dire come se il lavoro che sono chiamato a svolgere me lo consentirà, però vedrei bene la partecipazione anche di una bella delegazione dei giovani dell'Università Cattolica, quindi vedremo, spero di poter ritornare perché è un momento straordinario. Grazie. 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 Grazie.